Su cosa bisogna lavorare per riuscire a lasciarsi alle spalle tutto quanto è successo in questi mesi di Covid-19? Intanto bisogna ricordarsi che non siamo nel post-Covid ma ci stiamo convivendo e quindi la situazione non è superata ma dobbiamo costruire le condizioni di convivenza per riprendere sul piano economico, sociale e del lavoro. Va riconosciuto all'Europa che si sta finalmente assumendo delle responsabilità politiche e quindi anche di scelte economiche che possano prima o poi, speriamo, auspichiamo in tempi brevissimi, dare una mano a chi come noi ha vissuto grandi difficoltà. Speriamo anche che si possa accedere al MES, noi siamo tra quelli che pensano che le opportunità vanno colte. Certo, gli ammoltizzatori, il divieto di licenziamento devono essere prorogati. Non tanto perché vogliamo uno Stato che si occupi esclusivamente di assistenza ma se noi a fine agosto chiudiamo con questi sostegni non siamo pronti a riprendere quel lavoro e sarà un dramma, una tragedia, un'ulteriore tragedia, la tragedia che si è consumata e si sta ancora purtroppo consumando con numeri diversi con l'avvento del virus. Bisogna prorogare gli ammoltizzatori, bisogna prorogare il divieto di licenziamento e bisogna fare in modo che i soldi che sono disponibili vadano a sostegno del rilancio economico e delle imprese che ci permetta nel momento in cui dovessero allentarsi le forme di sostegno al reddito e le forme di protezione ai lavoratori che ci sia il lavoro. Questa è l'unica ricetta possibile sapendo che durerà anni il recupero di questa grande difficoltà e quindi spetta a tutti noi mantenere responsabilità, capacità di dare soluzioni e soprattutto la capacità di mantenere anche coesione sociale per non fare in modo che le condizioni di disagio travalichino quelle che possono essere condizioni civili che francamente non ci potremmo permettere.